Ciao, oggi vi presento Bricomix, un recipiente molto capiente, graduato, che potrai utilizzare per tutte le tue preparazioni. In più ha un suo coperchio, quindi puoi utilizzare anche per conservare gli ingredienti avanzati, e non solo, perché il coperchio ha un altro piccolo coperchio qui su, che puoi eliminare, e puoi utilizzare con il Bricomix anche l'aiuto cuoca. L'aiuto cuoca è composta da questi tre piccoli inserti per separare le uova, i tuorli, e quindi lo puoi inserire in questo modo, oppure se devi grattugiare un agrume lo puoi sostituire in questo modo, se devi spremere l'agrume puoi utilizzare quest'altro inserto, e non è finita qui, perché se hai il Magic Mix puoi riempire il Bricomix di acqua calda, mettere il burro all'interno del tuo Magic Mixer e far sciogliere il burro. O lo puoi anche utilizzare se devi sciogliere un po' di cioccolato, o ancora puoi utilizzarlo per riscaldare le uova se le vuoi portare a temperatura ambiente prima delle tue preparazioni. Per pochi giorni sarà in promozione, quindi come sempre scrivimi e ti dirò come acquistare. Io intanto ti saluto con il mio Bricomix e ci vediamo alla prossima. Ciao!